Ebbene cari amici, quante volte abbiamo ascoltato le tante testimonianze di devoti, di pellegrini, di tanti che conoscono la grande spiritualità di San Pio da Pietrelcina. Io proprio per questo vi ricordo che ogni sabato abbiamo l'opportunità di aprire il nostro centralino e il sabato mattina alle 9 in punto con Di Giorni Giorno siete voi i protagonisti della nostra puntata proprio perché ci raccontate le vostre esperienze, ci raccontate le vostre testimonianze. Ecco come Padre Pio ha sconvolto un po' la vostra vita perché a volte ecco questo suo entrare nella nostra vita anche in modo prepotente del nostro caro e amato San Pio da Pietrelcina per rimetterci sulla retta via. E vi ricordo quindi il sabato, l'appuntamento del sabato 0882 41 83 80 per intervenire in diretta e quindi avete questa bella opportunità, la nostra Grazia Pia prende tutte le vostre testimonianze e poi avremo l'occasione anche di risentirci e quindi vi richiamerà. E vi ricordo ancora con Di Giorni Giorno Padre Pio nella mia vita. Ecco i racconti, le testimonianze. E proprio quest'oggi vogliamo entrare nello spaccato della vita di una famiglia come spesso facciamo, che ci racconta la sua vita intrecciata, quasi incatenata, ecco, con quella di San Pio da Pietrelcina. Ed è la famiglia Giordanelli. Qui abbiamo quest'oggi, grazie per essere qui, Francesco Giordanelli, che ci ha portato nei nostri studi questo libro. Io voglio partire, Francesco innanzitutto grazie per essere qui, grazie per la tua disponibilità. Ecco, io volevo partire proprio dal titolo di questo testo. Sì signora, te lo prometto, 13 anni di cammino con Padre Pio da Pietrelcina. Sì, questo titolo è virgolettato perché è una frase di Padre Pio, che Padre Pio ha pronunciato in confessione, durante una delle confessioni, che mia madre ha avuto l'opportunità e la fortuna di avere con lui. Mamma, due parole per capire un attimo la genesi di questo volumetto. Si trattava all'inizio di semplici appunti, una sorta di diario che mamma ha cominciato a buttare giù nell'ultimo periodo prima della morte di Padre Pio. Quindi si tratta degli ultimi 13 anni, ecco, intesi così? Beh, gli ultimi 13 anni della vita di Padre Pio, certo. Quindi l'incontro, diciamo, mamma aveva un momento di particolare bisogno spirituale e quindi è venuto a contatto con questa figura. Tra l'altro il primo colloquio che mamma ha avuto con Padre Pio risale al 1956. Tra le altre cose, questa è una piccola notazione personale che mi fa piacere comunque citare, quando ha incontrato per la prima volta Padre Pio, lei si era appena accorta che era in attesa del secondo figlio, cioè di me. Quindi ho avuto l'opportunità di avere un sacco di benedizioni da Padre Pio, come è raccontato in questo volumetto, quando ancora non ero nato ma ero stato concepito, quindi ho avuto questa grande sorte. Questa frase, ecco, dicevamo prima, è una frase che Padre Pio ha detto per due volte in risposta a due richieste di mamma, due richieste un po' particolari, non so, ecco, se è il caso di... Certo, certo, certo. La prima riguardava il fatto che mamma, vivendo a Terni, anche se stava a San Giovanni Rotondo ogni volta che poteva, quindi ricordo io e i miei fratelli passavamo a San Giovanni Rotondo tutte le vacanze scolastiche, Natale, Pasqua e tutta l'estate, e mamma appena poteva correva a San Giovanni Rotondo. Però lavorava a Terni nella sua farmacia, per cui spesso le capitava che dei clienti entravano dicendo, ha saputo, Padre Pio è stato male, è morto, e lei ogni volta moriva di paura lei. Quindi nella confessione successiva ha detto a Padre Pio questo e gli ha chiesto di trovarsi, che lui facesse in modo che lei si trovasse a San Giovanni Rotondo nel momento in cui fosse arrivata l'ora di Padre Pio, di andare in cielo, e lui ha risposto, sì signora, te lo prometto. La seconda volta, tempo dopo, mamma ha chiesto a Padre Pio l'assistenza in punto di morte, cioè quando sarebbe arrivato il momento di mamma di andare in paradiso, ha chiesto a Padre Pio, padre, se siete ancora vivi o da vivo, se no, se siete morti o da morti, però state vicino a me in quel momento. E Padre Pio di nuovo questa frase, sì signora te lo prometto, senza aggiungere commenti, tanto che mamma quasi si aspettava una sgridata di fronte a questa richiesta un po' eccessiva, e invece il suo commento è stato, ah che bello padre, così almeno finché non vi vedo vuol dire che non muoio, e quando vi vedo muoio contenta. E Padre Pio si è fatto una risata dicendo, hai visto come ha risolto bene lo problema? E qui era umanissimo. Tu tra l'altro Francesco, in questo testo che è corredato da diverse foto, ecco hai questa bella fortuna che hai tantissime foto con un santo, con questo straordinario... Beh sì, nel 68 non è morto Papier, ho 11 anni, per cui diciamo i miei 11 anni li ho trascorsi tra i tuoi fratelli, tu e i tuoi fratelli, un sacco di foto con San Pio da Pietrelcina, riprese proprio, ecco rubate possiamo dire, alla sua intimità, anche nella clausura, ecco questi colloqui nella verandina. E sì, qualche volta con papà andavamo nell'orto, dopo la funzione serale, insomma c'erano, sono momenti... Ecco, momenti di gioia, ecco anche di condivisione quando Padre Pio ecco cominciava a raccontare, a dare anche passi di indicazioni, anche direzione spirituale a tutti coloro che erano lì con lui. Anche qualche barzelletta, perché si era... Era... Lo spirito partenopeo comunque ce l'aveva. Uno humor forte. Ebbene ecco qui vediamo la tua prima comunione in questa bella fotografia. Tu hai fatto la prima comunione con Padre Pio e anche la prima confessione, ti sei confessato diverse volte. Sì sì, io mi ricordo questa paura, io insomma ero un bambino per cui avevo credo sette anni quando è stata la prima comunione, per cui ha sette anni che peccati si possono commettere. Eppure io ricordo questa paura perché vedevo tutti gli uomini grandi magari preoccupatissimi, chi sudava freddo, terrorizzati ad andare alla confessione e quindi anche noi bambini dicevamo, oddio, ma che succede? Poi in realtà Padre Pio era molto paterno, anche se nei miei confronti qualche volta probabilmente ha visto quello che avrei combinato dopo, quindi qualche rimprovero è arrivato. Forse non per quello che avevo fatto allora, ma per quello che avrei fatto dopo. Ecco, attraverso questo testo, Sissignora te lo prometto, attraverso questi 13 anni, tu che hai dato una mano nell'andare a realizzare con tua mamma, Rina Giornarelli, Aita giusto? Aita è con il nome di mamma, Giornarelli è quello di papà. Che salutiamo tua mamma, sappiamo che è anche un'attenta telespettatrice. Sì, lei non può fare a meno di Padre Pio, assolutamente. Infatti è lei che ti ha mandato, ecco, porta questo testo in redazione. Noi ringraziamo la signora per questo pellegrinaggio. Sì, ha approfittato di questo mio brevissimo pellegrinaggio. Pellegrinaggio notturno. Avevo necessità di chiedere una cosa a Padre Pio, quindi sono partito ieri sera, mi sono fatto in treno una notte e riparto fra un'ora. Riparti tra un'ora. Ebbene, quali tra questi episodi, in questi tredici anni, quali di questi ti ha colpito di più? Beh, ce ne sono tanti. Tra l'altro la tua storia è anche legata prima della tua nascita, come ci anticipavi. Sì, beh, certamente, ma i tredici anni si possono sintetizzare come un'assistenza continua alla nostra famiglia, per tutte le necessità materiali, spirituali, di qualunque genere. Tanto mamma era abituata a chiedere a Padre Pio tutto, anche le cose che uno non penserebbe, che sono oggetto magari di direzione spirituale o di confessione, però ormai c'era quell'abitudine a chiedere proprio tutto, le indicazioni su tutto, e Padre Pio non ha mai mancato di darle. Ma io posso dire una cosa che non c'è in questo libro. Certo. Io ho un ricordo di una cosa che, voglio dire, non era la realtà per cui è stata una cosa un po' prodigiosa, fra virgolette. Il giorno dell'ultima messa di Padre Pio, 22 settembre 68, io ero per sfuggire alla calca, me ne erano andato nel matroneo, esattamente nel punto dove Padre Pio pregava nel pomeriggio. Io me lo ricordo infatti lì Padre Pio sempre, io da sotto guardavo e c'era lui inginocchiato nel matroneo. Io ero quella mattina lì, per cui ho visto esattamente dall'alto la processione che dalla sacrestia veniva verso l'altare. Io ho visto una cosa strana, cioè non reale, perché anche così, come dire, per le leggi della fisica non è possibile. Ho visto le mani di Padre Pio senza croste, come ero abituato a vederle, con due buchi, quindi le mani bianche con due buchi, e ho notato che addirittura vedevo il damasco nero e rosso del tappeto dell'altare attraverso i buchi delle mani di Padre Pio, il che, ripeto, è impossibile fisicamente. Però mi ha colpito questo fatto, ma non è che gli ho dato tutta questa grande... Dico, guarda un po', sono proprio buchi veri. E siccome, non lo so perché, è comunque una visione un po' particolare, però in realtà sappiamo poi che nell'ultima messa Padre Pio non aveva più le croste, aveva solo i buchi nelle mani. Certo, certo, ormai erano scomparsi le stime, i segni, ormai erano letteralmente scomparsi. L'ultima escala cadde proprio nel momento in cui venne composta la salma all'interno della verandina del convento, poco distante alla cella numero uno. E tra le tante foto, tra i tanti racconti, ecco, questa famiglia legata alla vita di Padre Pio. Tu ci anticipavi, ecco, la tua vita un po' legata anche prima della tua nascita, perché tua mamma decideva, così come tante famiglie, come tanti figli spirituali, tanti devoti, e decideva di venire a partorire qui, a San Giovanni Rotondo. Sì, beh, diciamo che mamma, essendo venuta a contatto con questa figura, si è attaccata completamente, quindi era normale, diciamo, no, che i figli voleva che nascessero a San Giovanni Rotondo. E così è stato per me, mio fratello e mia sorella piccola. Piccola che adesso è grande, ma insomma che si chiama Maria Pia, appunto, in onore di Padre Pio, come io mi chiamo Francesco, perché si chiamava Francesco lui. Sì, c'è stata veramente, come dicevo prima, un'assistenza continua, ma anche per esigenze materiali c'è stato un periodo di grosso dissesto finanziario dovuto a delle firme di garanzia, erano state messe, quindi non perché si erano spesi i soldi, perché era capitato questo guaio, e in maniera veramente prodigiosa, in pochissimo tempo si è venuti fuori da questa situazione con un'assistenza continua, veramente, da Padre Pio, con le parole e con i fatti, poi abbiamo visto. Dei veri prodigi sono capitati. Sì, in particolare, io vedo che sei anche abbastanza emozionato. E beh, insomma, ricordando queste cose. Ci ha salvato la vita da un incidente stradale, una volta, tutta la famiglia. Tornavamo proprio da San Giovanni Rotondo, fine settembre, perché si ripartiva con le scuole, il primo ottobre, allora, quindi a fine settembre si ripartiva per Terni. E quasi arrivati a Terni, era notte, era, mi pare, anche l'asfalto viscito, insomma, papà ha perso il controllo, ci addormentammo tutti in macchina. Papà pure non aveva preso il caffè nel pomeriggio e quindi... E siamo andati a ruzzolare, trattenuti da un muretto, se no si andava a finire nel fiume e passava lì sotto il velino. E quando mamma, diciamo, pochi giorni dopo, andò a trovare madre Speranza, che è un'altra persona, che è entrata nella nostra vita molto. E madre Speranza disse, vi ha salvati la mano stessa di Dio. Quindi sentire queste cose da un santo, da una santa, insomma, fanno pensare. Certo, certo. Tra i tuoi racconti, tra i tuoi aneddoti che ritroviamo all'interno di questo libro di tua mamma, ecco, ci sono tanti racconti legati anche a conversioni. Sì, ci sono citate, insomma, persone, sono nomi e cognomi, a tanti forse non diranno nulla, ma chi ha frequentato San Giovanni Rotondo in quel periodo sicuramente sì. Fra le cose simpatiche, forse da citare qualche rimprovero che si è beccato papà da padre Pio, perché è successo, per esempio, tanto per citarne una volta, mamma si confessò da padre Pio, accusandosi di un peccato, dicendo padre, io in macchina, mio marito corre, allora io mi inquieto, insomma, perdo la pazienza e mi confesso questo. Padre Pio, che più. un paio di giorni dopo papà è capitato, non so se c'eravamo anche noi, non ricordo, nell'orto, e padre Pio, avvocato, tieni una macchina? E papà, sì padre, pensando, chissà, mi chiede di accompagnarlo da qualche parte. Eh, la vuoi finire di far spaventare tua moglie e i bambini? Così aveva risolto, e da allora, insomma, papà è stato molto più accorto. Ecco, tra i tanti racconti, ecco, e aneddoti, sicuramente, ecco, la famiglia, tu hai conosciuto padre Pio non solo perché hai avuto l'opportunità, ecco, di avere questa grande fortuna, eh, questa grazia, soprattutto, di incontrarlo in questo sacramento importante della riconciliazione, ma anche attraverso i racconti di tua mamma, di tuo papà, ecco, quando ti raccontavano di padre Pio, che cosa ti dicevano? Chiaramente tu eri un bambino, eri un ragazzo. Io ho avuto un episodio, per esempio, che ricordo, cioè che non ricordo, che so solo dalla, perché me l'hanno detto papà e mamma, perché ero piccolissimo, di un'apparizione di padre Pio, quando io avevo un problema grosso di emorragia dal naso, perché ero andato a battere, insomma, era abbastanza seria la cosa, non riuscivo a respirare, non riapiangevo, perché, insomma, un bambino di pochi anni, credo, mi pare il primo compleanno, o giù di lì, e non riusciva, mamma disperata, non riusciva a capire come fermare questa emorragia, come fermare il mio pianto, perché non riuscivo a respirare, quindi piangevo peggiorando la situazione, e si è raccomandata a padre Pio e mi è tornata nella mia camera dove dormire e mi ha trovato addormentato, oddio, meno male, quindi fino alla mattina, dopo che siamo andati a fare le cure necessarie, eccetera, e io ho riferito poi, la mattina, che era venuto padre Pio, io ho detto da bambino, da due anni, credo, insomma, c'era molto a livello, sì, è venuto padre Pio, mi ha detto, Francesco, stai buono, e io lì mi sono addormentato, passato tutto, quindi questa, io non la ricordo chiaramente, ma la ricordo nel ricordo dei miei genitori che me ne hanno riferito. Ecco, tra i diversi capitoli che troviamo all'interno di questo testo, ecco, oltre a questo, al centro un po' di quell'ultimo periodo, quel sì signora, te lo prometto, oltre alla conversione, leggo la conversione di mio suocero, che racconta tua mamma, poi anche... Lì è un'altra apparizione di padre Pio, è stata, in Calabria, dove mio suocero di mamma si trovava, riferì che, questa persona riferì che a un certo momento è entrato in camera a un monaco, infatti lui quasi, ma chi l'ha chiamato? Lui non credeva. Però non l'ha visto solo lui, lui non credeva. Lui non credeva. Però diciamo che era stato sempre aperto dicendo, tu che... Diceva a mamma, tu che credi prega per me, io non credo, ti prenderei in giro se dicessi una cosa diversa. Conosceva padre Pio? No. No, non lo conoscevo. Però vide un monaco che vedeva solo lui, dice, ma chi è questo monaco? Quelli che erano lì, dice, sta delirando, ormai è arrivato. Invece ha visto questo monaco entrare, lui, contemporaneamente a Terni, mia sorella grande, Anna Patrizia, ha visto come in un film questa scena. Questa è una cosa veramente... Ha visto la scena della camera del nonno, dove dice, padre Pio è andato da nonno, ha riferito a mia madre. Mamma dice, ma non dire queste cose. Invece ha riferito puntualmente la questione e mamma ha fatto una domanda di verifica in un certo momento. Siccome mio padre era lì, al capezzale di suo padre, dice, è venuto nonno, ha fatto la comunione. Ha visto nonno che ha fatto la comunione. È venuto padre Pio, lui si è confessato, ha fatto la comunione. E allora mamma subito ha chiesto, ma anche papà ha fatto la comunione? La Patrizia ha pensato, no, papà non ha fatta. Poi, sentendosi al telefono, mamma ha chiesto a papà, era la ragione di questo. Lui ha detto, sì, non l'ho fatta perché il prete era venuto solo con un'ostia. Quindi addirittura anche la verifica c'è stata, che non era una fantasia. E quando mamma ha riferito questo a padre Pio, lui ha confermato in un certo senso questo, dicendo, no, non era fantasia. E quindi, insomma, le cose sono tante. Insomma, chi le vuole vedere, basta che legge tanto. Tanto si legge in un attimo, è breve. Infatti, infatti. Chiaramente è uno stile, non è uno scrittore, mamma, è uno stile molto personale. Un piccolo racconto, una serie di racconti, una serie di aneddoti. Sì, ecco, l'ultima cosa che vorrei dire è che, mamma, diciamo, perché è successo questo? Perché esiste questa cosa? Sì. È una cosa un po' particolare. Mamma aveva l'abitudine di riposare una mezz'ora dopo pranzo, sempre, anche perché qui ci si alzava prima dell'alba, no? Per andare alla messa di padre Pio. Quindi dopo pranzo c'era il momento di stacco. E siamo negli ultimi mesi della vita di padre Pio. Chiaramente mamma non sapeva questo, che erano gli ultimi mesi. E non riusciva a riposare dopo pranzo. Era un po' di giorni, non riusciva a riposare e invece restava con gli occhi sbarrati e le venivano in mente una serie di episodi degli anni precedenti, di lei con padre Pio, di tutto quello che poi è citato lì. E a questo punto, dice, visto che non mi riesco a riposare, ha cominciato ad appuntarli. E ha cominciato ad appuntarli, ripeto, con uno stile molto personale, una sorta di diario, no? Poi le è venuto uno scrupolo, dice, forse faccio male, perché qui era sempre che bisognava un attimo vagliare. E allora la prima confessione utile ha detto a padre Pio, questo, c'è padre, io mi succede questo, sto appuntando queste cose, ma mi è venuto il dubbio, forse faccio male. E perché? Ha risposto a padre Pio. Allora posso continuare a farlo? Sì, però fai presto. Questo è molto lapidario. E questo fai presto, mamma lo interpreta in questa maniera, se non mi fossi sbrigata, padre Pio era di lì a pochi giorni, la sua morte, e sicuramente non avevo avuto né il coraggio, né il cuore di mettermi, dopo morto padre Pio, a citare, a ricordare tutte queste cose. Quindi il fai presto di padre Pio era forse in questo senso. Ecco, tu sei stato presente anche all'ultima messa, come ci raccontavi, ma sei stato anche presente alla giornata della morte di padre Pio, oppure siete tornati? Certo che, no, no, stavamo lì. Tra l'altro, ecco, per ritornare al Signora del Prometto, noi saremmo dovuti partire qualche giorno prima, però per una serie di ragioni, mamma c'era una sorta di angoscia, insomma, non si decideva a partire e quindi eravamo ancora lì, vista la promessa. E siamo arrivati la mattina davanti alla chiesa con la grande croce, no? Ecco, la chiesa chiusa perché il padre Pio era andato in cielo. Quindi questo è stato l'impatto. E ecco, un'altra cosa mi viene in mente adesso, c'è sempre lì. Mamma, dopo qualche tempo, è tornata verso casa e il suo pensiero era come dare la notizia alla mia sorella piccola, che è del 64, quindi aveva 4 anni. Cioè adesso come lo dica Maria Pia, il padre Pio è morto. È arrivata a casa e Maria Pia lo sapeva già. Come lo sapeva? Cioè è venuto l'angelo custode e mi ha detto, me l'ha detto, mi ha detto tu non ti preoccupare, stai buona, stai tranquilla. Quindi proprio non è mancato niente, insomma. Che poi tra l'altro, se non sbaglio, sull'angelo custode c'è anche un altro piccolo passaggio legato alla storia, anche gli aneddoti, i racconti che fa tua madre di padre Pio. Sì, apparizioni dell'angelo custode come questa a Maria Pia che ho detto, ma anche proprio una domanda specifica a proposito dell'angelo custode, sì. Perché tua madre era incredula o comunque diceva... Beh, diciamo che qualche dubbio ce l'aveva, insomma, ma è sicuro che... ma se io... perché il discorso era questo, quando io non sto a San Gereto, non sto a Terni, io mando l'angelo custode e voi mi ispirate, sì. Ma è sicuro che lui viene? Ma sono sicuro che poi lui viene da voi, veramente. Cioè, per non venire dovrebbe essere un testone come me e uno stupido come te. Quindi sempre queste conferme indirette di padre Pio, no? E quindi da allora naturalmente mamma si è rivolta con molta più fiducia all'angelo custode, mandandolo con i messaggi. Verso padre Pio, beh. E tra i tuoi racconti dell'ultima giornata, ecco, questa giornata, questa lunga giornata della morte di padre Pio, poi vi siete trattenuti... Eh beh, certo. Anche fino ai funerali. Certo. Ecco, quali sono i tuoi ricordi? Che cosa ricordi di quelle giornate? Ma io ricordo... Tristezza o gioia? Beh, gioia no, sicuramente. Cioè, gioia nel... Cioè, mestizia, diciamo, ecco. Mestizia. Che non è tristezza, è mestizia, è una cosa perché chiaramente noi tutti sapevamo che padre Pio era santo e quindi era in paradiso. Certo, certo. Però umanamente, insomma, come quando muore un familiare qualcuno... Con la fede sappiamo che sta meglio di noi poi perché è in paradiso, però umanamente sentiamo il distacco, sentiamo il dolore. Le cronache parlano di un trionfo che è stato quello del funerale di padre Pio. Sì, era... Era... A me mi colpì. Io, dunque, ero... Ma non mancavano volti tristi, file, code, interminabili? Sì, ma era una grande cosa, si potrebbe dire. Chi lo vedeva dall'esterno diceva, ma che stanno facendo? Una grande processione era. Mi ricordo le suore bianche con molti cappelli enormi, tutti addobbati, tutti con i paramenzi, voglio dire, una cosa solenne e grandiosa, ecco, potremmo sintetizzarle. Io, tra l'altro, ero in un punto d'osservazione perché facevo parte del gruppo dei Chierichetti, però quel giorno non ero... Perché facevamo i turni, no? Certo. Qui non ero di turno per accompagnare, ma ero messo a un certo punto del viale e quindi mi sono visto tutto il corteo che è andato in un paese e poi è tornato, una cosa molto solenne. E di queste giornate, ecco, di questo grande pellegrinaggio dei devoti in Chiesa, ecco, dinanzi alla Salma di Padre Pio, cosa ricordi? Beh, ricordo semplicemente il mio passaggio lì perché non si poteva sostare, quindi mi sono messo in fila con gli altri, ma questa o questa... I ricordi di un fanciullo, di un ragazzo. Certo, certo. Diciamo che questa fila dentro la Chiesa, la processione del funerale non è altro che poi quello che è successo dopo, cioè i fiumi di gente che hanno continuato e continuano a venire a San Giovanni Rotondo perché Padre Pio, come diceva lui, farò più chiasso da morto che da vivo, insomma, quindi evidentemente Padre Pio non c'è fisicamente ma c'è tutta la sua spiritualità e la sua santità. La sua santità. Ebbene, noi ti ringraziamo Francesco, ringraziamo il Dottor Giordarelli per questa incursione nei nostri studi e grazie per la tua disponibilità. D'altro ho avuto modo di visitarli e complimenti comunque a tutte le vostre trasmissioni, sono veramente oltretutto anche di ottimo livello. Eh, grazie, grazie, troppo buono, troppo buono. Grazie Dottor Giordarelli, grazie anche per Francesco, ecco, per la tua disponibilità e soprattutto perché hai ritagliato un po' di tempo, del tuo tempo. Sappiamo che quando i tanti pellegrini giungono qui a San Giovanni Rotondo hanno l'orario già prestabilito, ecco, anche in questi pellegrinaggi molto veloci via Crucis, Rosario, Santa Messa, ecco, è già tutto organizzato. Eh, il mio era un po' particolare oggi, perché ho un pellegrinaggio individuale di poche ore, ma quello che dovevo fare l'ho fatto. Eh, hai fatto, ok. E allora noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, per essere stato qui, aver condiviso con tutta la famiglia di Teleradio Padre Pio la tua esperienza, ma soprattutto quella anche di tua mamma, Rina Giordarelli. Aita, sì signora, te lo prometto, 13 anni di cammino con Padre Pio da Pietrelcina.